Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Allora, un nuovo piccolo video e grigio perché poi bruciò ancora l'altro domani mentre faccio la colazione. Come state? Io sono appena d'entrata in camera mia. Tra poco dormo. Mi ha detto che la maglia così, vabbè, intimo. Allora, sono così in pigiama, anzi, ho il pantalone in pigiama, tra un po' dormo perché è già tardi, sono 9-10 se non ero e niente, io tra poco mi corico e ci vediamo domani, ok? Allora, in tutti questi giorni ho pensato di fare video outfit e le farò appena un po' su video outfit, quindi preparatevi con i soliti video outfit, ok? E niente ragazzi, che dire, buonanotte, buonanotte a tutti e a tutte e ci si vede domani. Buonanotte, a dopo. Ah, ricordatevi di dormire bene e riposare bene. Ciao. Ah, innanzitutto, non lo dico all'inizio, ma lo dico alla fine, come sembra, eh. Se questo video vi piace, mettete un like. Se questi clip, per mano che passano i clip, vi piacciono mettere like, commentate, iscrivetevi per diventare la campanella. Buonanotte, a domani. Buongiorno, ragazzi, come state? Spero bene. Sono appena svegliata. Ora faccio colazione. Buonanotte, a domani. Buonanotte. E' un po' di acqua. Alla prossima 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 Va bene Alla prossima E' E basta Alla prossima